Tragico incidente venerdì sera nel Brindisino sulla strada provinciale che collega San Donaci con Tuturano nel territorio di Cellino San Marco dove un'auto, una Fiat Grande Punto Cross, è uscita fuoristrada in prossimità di una curva ribaltandosi più volte nel terreno adiacente. Pompilio Gianmarco Micello, giovane di San Pietro Vernotico, non ce l'ha fatta, è morto sul colpo, restando incastrato fra le lamiere, non aveva ancora compiuto vent'anni, con lui in auto sul sedile del passeggero, una ragazza, anche lei giovanissima, estratta dal veicolo con l'aiuto dei vigili del fuoco intervenuti sul posto e poi trasportata con urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. Ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Non è chiaro cosa abbia provocato il sinistro. L'auto incidentata sembra non abbia coinvolto altri mezzi ma saranno gli accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi a far maggior chiarezza. La Fiat Grande Punto dopo l'uscita di strada è carambolata nelle campagne a circa 50 metri dalla carreggiata. È stato un'automobilista di passaggio a notarla e allertare i soccorsi. Un tragico destino per la giovane vittima, il 17 dicembre del 2022, Micello rimase coinvolto in un altro sinistro in cui persero la vita tre persone. Si salvò per miracolo, un destino beffardo che questa volta non gli ha sorriso.